la fabbrica del mondo è quel luogo in cui si fa o si distrugge il pianeta è un luogo in cui tutto il sapere tutto il potere tutto il volere combinati assieme possono consegnare nelle mani dell'uomo le chiavi del suo futuro sta lui ad apprenderle e utilizzarle a fin di bene